Fondo non autosufficienza. Luigi Mazzuto, lei un anno fa si insediava come assessore alle politiche sociali. La Giunta regionale nelle scorse ore ha approvato il programma e il disciplinare per la presentazione delle domande da parte delle persone in situazione di disabilità gravissima. Del 2018, vorrei precisarlo questo dato. 2018 vuol dire l'ultimo anno valido, insomma, e quindi già in regola per il 2019. Sottolineo questo aspetto perché proprio un anno fa, quando mi sono insediato, io sono stato investito dagli ambiti sociali perché il 2016, nel 2018, di 2 milioni e 6, ancora non avevano ricevuto neanche un soldo. Non avevano ricevuto gli ambiti ma non li avevano ricevuto neanche le famiglie, quindi quel contributo di 400 euro era andato, aspettava di essere liquidato. Ovviamente quei fondi sono arrivati all'inregione, qualcuno ha inteso pagarci altre cose, non darli al sociale evidentemente. Una parte di quei fondi li abbiamo recuperati con l'assestamento di bilancio del 2018, un milione e 6, quindi già tutti liquidati agli ambiti. Nel 2017 invece, dei fondi del 2017 li abbiamo liquidati interamente, il 100% nel 2018. Col 2019 siamo addirittura in anticipo sulla tabella di marcia per quelle che sono le previsioni, per quelli che saranno essere i bandi che gli stessi ambiti dovranno mettere in campo adesso. Qual è la copertura degli interventi e chi sono i beneficiari? La copertura, siamo di fronte a 2.996 milioni del Ministero, sono fondi nazionali, piano sociale nazionale. Il Consiglio regionale del Molise per la prima volta quest'anno ha inserito il piano, una voce sui fondi della noto sufficienza, un proprio capitolo, dotando di questo capitolo di 400 mila euro per i tre anni a partire da quest'anno. Quindi sono diventati 3.486 milioni, mi pare qualcosa del genere. I beneficiari sono, davanti di diritto, le persone con handicap gravissimo, voglio dire. Le persone affette da SLA in maniera più leggera, sono fondi di 3.400 milioni che vanno ripartiti tra le varie categorie. Però i beneficiari maggiori appunto sono le famiglie che hanno scelto e hanno optato di avere il contributo mensile di 400 euro. Grazie a tutte quelle famiglie che hanno scelto e optato per il contributo di 400 euro perché ci consente di arrivare a più famiglie possibili, quindi a più persone, insomma. di allargare il contributo a 590 persone quest'anno, 170 in più rispetto allo scorso anno. Praticamente da primo giugno, ipoteticamente, se gli ambiti sono pronti con le graduatorie, possono già inviarcele, quindi possiamo già liquidare l'80% del contributo. Da quest'anno l'ASREM non mette, non invia visita medica, quelle persone sono già state riconosciute negli anni precedenti con 100% di inabilità e di invalidità.